Ben ritrovati, in questa lezione parleremo di strumenti hardware e software e metodi per l'acquisizione forensi, in particolare della Mobile Forensics. Entriamo nel vivo degli argomenti, parleremo di cellulari, smartphone, tablet, schede sim, navigatori satellitari e droni. Differenze nei metodi di acquisizione logica, fisica e file system, del tool UFED for PC, Oxygen Forensics, Magnet Axiom e di una serie di tool gratuiti per la strapolazione dei dati da dispositivi mobili, quindi iTunes, software per sistemi operativi Android, per la creazione di backup. Quindi ci spostiamo rispetto alla precedente lezione, non più sul mondo della computer forensics, ma nella branca legata alla mobile forensics, quindi con tutti questi strumenti utilizzati per dispositivi mobili. Guardiamo questa slide che rappresenta un po' al mondo dei dispositivi mobili, cellulari, smartphone, tablet, schede sim, navigatori satellitari e questi ultimi arrivati i droni. Avete visto quanti droni ci sono in giro? Ormai vengono utilizzati per una marea di attività di ogni tipo, ci sono applicazioni comunque anche assolutamente forensi per fare una sorta di perquisizione dall'alto, sono molto più economici, sono veloci, sono nascosti perché riescono a fare delle riprese anche dall'alto mentre non li verdiamo e non li sentiamo, ma sono sopra di noi, riescono ad entrare anche in delle proprietà private dall'alto, c'è bisogno chiaramente di tutta una serie di brevetti anche nell'utilizzo, ma sono dei mezzi ormai potentissimi per la visualizzazione, soprattutto in quei reati ambientali dove c'è da vedere scarichi abusivi, tutte queste cose che riguardano un po' gli aspetti dei carabinieri forestali, per esempio i dati ambientali sono diffusissimi, abusi edilizi e così via. Nonché talvolta vengono usate anche in tantissime realtà di attività proprio di polizia giudiziaria per andare alla ricerca di criminalità organizzata, incontri tra persone, sono molto molto efficienti, sono un'insidia non da poco per chi commette delle attività illecite. A seconda del dispositivo è possibile effettuare diverse tipologie di acquisizione, quindi andiamo a vedere quali sono. Cellulari, smartphone e tablet possiamo fare l'estrazione logica, la file system e la fisica. Se invece parliamo di navigatori satellitari, possiamo andare a rilevare dati relativi ai percorsi e alla navigazione, quindi posti visitati, luoghi impostati per la navigazione, chiaramente qui parliamo sia di navigatori esterni, classici TomTom, Garmin e così via che avevamo forse un po' di più fino a qualche anno fa, ma sempre di più si ci va a collegare anche ai navigatori inclusi nelle auto, anche se anche questi tendono un pochino a essere usati sempre meno perché alla fine l'utilizzo maggiore sia ancora nei cellulari, ormai con un Google Maps si va praticamente dappertutti, però c'è la possibilità di analizzare un po' tutti e tre questi aspetti. I droni invece riusciamo a rilevare dai droni dati di volo, quindi le altezze in cui il drone è stato e arrivato, il luogo dove si trovava, le coordinate, quindi le localizzazioni, i file multimediali come immagini scattate, video con data, ora e tutto ciò che è stato preso. Soprattutto quando sono attività magari di sopralluoghi, ci sono attività non autorizzate, ci sono delle persone che ormai si introducono, vanno a spiare tutta una serie di dettagli e arrivano a fornire queste attività anche come investigazioni private in tante occasioni. Spunti di riflessione. Le estrazioni date effettuali dagli smartphone sono le stesse di quelle effettuate sui droni? Sono anch'essi considerati dispositivi mobili? Passiamo adesso a valutare le differenze dei metodi di acquisizione logica e file system. Quindi esistono queste tre diverse tipologie di acquisizione per quanto riguarda i dispositivi mobili e quindi la mobile forensics. L'acquisizione logica cosa fa? Estrae i dati presenti contenuti nella memoria solo di alcune partizioni. Equivale ad un copia e incolla manuale dei dati direttamente dal device. In parole semplici non vengono generalmente recuperati dei dati cancellati ma soltanto dei dati presenti all'interno di un dispositivo. È il livello più base di acquisizione che possa essere fatto da un dispositivo mobile. Infatti i dati che si possono prendere sono file multimediali, registro di chiamate, sms, contatti, eventi del calendario, poco di più. Quella che è invece l'acquisizione molto più completa, che vale la pena sempre di riuscire a fare, ma talvolta purtroppo ci sono delle limitazioni dovute ai dispositivi che si utilizzano per fare questa estrazione, è l'acquisizione fisica che rappresenta la più completa, estrae i dati presenti e cancellati, sempre non sovrascritti, in tutti i settori e partizioni di memoria. È l'acquisizione confermo per eccellenza valida in ambito giudiziario. Da questo tipo di estrazione fisica si possono rilevare quelli che sono i dati della logica, quindi tutto ciò che è compreso nell'acquisizione logica, ovviamente lo troviamo anche nella fisica, ma non il viceversa. I dati della file system che vedremo in acquisizione parziale, li troviamo sempre all'interno dell'acquisizione fisica, quindi dati di applicazioni come social network, whatsapp, telegram, viber e così via, dati presenti e cancellati non sovrascritti. La file system è un po' una via di mezzo tra l'acquisizione logica e l'acquisizione fisica, estrae oltre ai dati estratti dalla logica anche i dati relativi a alcune applicazioni. Solo per i dispositivi Apple è un'estrazione molto più completa, perché per quanto riguarda il mondo Apple, purtroppo su alcuni modelli, dal modello 4S in poi fino agli attuali iPhone, si riesce solo a fare un'acquisizione del file system generalmente, in alcuni casi si riesce a fare anche un'acquisizione fisica, però è necessario fare un jailbreak del dispositivo. In tanti casi si fa un po' fatica a farlo, perché ci sono dei sistemi operativi troppo aggiornati e potrebbe diventare molto rischioso fare questa attività, potrebbe portare addirittura al wiping, quindi alla cancellazione, all'inizializzazione del dispositivo. Quindi si tende spesso nell'attività giudiziare a fare l'acquisizione del file system che riesce a dare comunque degli ottimi risultati, diciamo, nella fase di analisi. I tipi di dati estratti dell'acquisizione del file system quindi sono i dati della logica, come dicevamo, i dati presenti in alcune applicazioni, cronologia web, cronologia delle posizioni, e qui vale fondamentalmente ad effettuare un backup del dispositivo, quindi tutto quello che verrebbe fuori da un backup di un dispositivo dell'acquisizione del file system riusciamo ad estrapolarlo. Spunti di riflessione. Qual è l'estrazione dati più completa che permette di recuperare anche i dati cancellati, ma soltanto se non sono ancora stati sovrascritti? Vediamo adesso il tool UFED for PC. Questa è una versione tutta digitale di un altro programma prodotto dalla Cellbrite che permette l'estrazione soltanto di dati da dispositivi mobili, quindi per tutta la parte mobile, quindi non dai computer ovviamente. L'altro dispositivo fisico è il Cellbrite UFED Touch, UFED Touch 2, che attualmente è in una versione tablet. Entrambi hanno le stesse funzionalità, soltanto che l'UFED for PC si può installare direttamente su un computer di proprietà, mentre l'altro gira semplicemente su un tablet e pertanto per poter fare delle attività bisogna utilizzare questo tablet. Vediamo quali sono le caratteristiche caratteristiche. Questo è il dispositivo ad oggi più famoso, più diffuso e più importante che esiste al mondo, prodotto da un'azienda israeliana, Cellbrite, per poter estrapolare dati da dispositivi mobili. Le caratteristiche sono, fa parte della suite Cellbrite abbinato al Physical Analyzer, quindi l'UFED for PC è il software che permette di fare l'acquisizione dei dati da un dispositivo mobile, quindi la famosa copia forense, la copia bit a bit, la copia bit stream image, sono tutti dei sinonimi di come si chiama una copia forense. Invece il software abbinato per fare l'analisi si chiama Physical Analyzer, sono venduti abbinati insieme. Parliamo di una soluzione che costa all'incirca 10.000 euro, è data in dotazione a alcune forze di polizia in Italia, altrimenti per poter fare delle attività bisognerà rivolgersi a una serie di consulenti esterni. L'acquisizione dei dispositivi mobili, SIM, navigatori, droni, SD e USB è quella che può essere effettuata con questo tool, ha un'interfaccia molto grafica e intuitiva. È possibile anche effettuare l'analisi di malware su dei device, questo perché? Perché ultimamente è sempre più diffusa un'attività di installazione di dei software cosiddetti software spia. Sono dei software che si mettono sul dispositivo, su un cellulare e permettono di essere purtroppo spiati completamente. Basta avere l'accesso al dispositivo, installare questo tool che è una sorta di applicazione invisibile all'utilizzatore e tutto ciò che viene effettuato dall'utilizzatore del dispositivo viene inviato a una persona che sta effettuando il monitoraggio. Quindi la vittima si ritrova ad essere spiata completamente tutto ciò che scrive, messaggi, whatsapp, le telefonate che vengono fatte, la localizzazione, la posizione in cui uno si trova, le tecnologie, le ricerche che vengono effettuate, tutto ciò che il telefono è in grado di poter effettuare, viene inviato su un server dove chi sta facendo lo spionaggio si connette a un server con username e password, con delle credenziali e può ascoltare anche le telefonate registrate, tutto ciò che era contenuto nel dispositivo in tempo reale, quindi senza poter procedere a un'attività di recupero fatto dopo, ma soprattutto tutto in tempo reale. Vi arriva una telefonata, chi vi sta spiando ascolta la vostra telefonata immediatamente. Siccome si sono diffusi questi software che principalmente nascevano per un'attività di controllo dei minori, perché ad oggi ci sono tantissimi minori che anche a 12 anni, 13 anni, se non a età molto più piccola, utilizzano già tutti questi device e c'era una necessità di poter andare a vedere cosa facessero con questi dispositivi. In questa maniera sono nati questi software che sono utilissimi per il controllo di un minore, ma ovviamente sono illegali per il controllo di persone maggiorenne o per il controllo di partner, persone sconosciute e così via, non si potrebbero utilizzare ma si stanno diffondendo. Pertanto nascono dei servizi di analisi di malware sui device, quindi ci sono delle persone che dicono puoi controllare se sul mio dispositivo sono spiato e grazie a questo Cellbrite UPD4PC si può andare a fare una verifica per vedere se un soggetto in quel momento viene intercettato, insomma, illecitamente. È chiaro che se alcuni strumenti vengono installati anche per scopi di polizia, quindi il famoso captatore informatico, in caso di attività questi vengono rilevati ugualmente, perché sono comunque dei software che sono estrani al funzionamento normale del dispositivo e quindi anche in quelle attività verrebbe fuori, insomma, c'è la possibilità di vedere se un soggetto è intercettato, non dal punto di vista telefonico rispetto alla classica intercettazione telefonica, ma rispetto all'intercettazione telematica, perché avviene direttamente all'interno del dispositivo. Nei casi di polizia addirittura questi software vengono installati da remoto, cercando di ingannare quello che è l'utente finale. Vi arriverà probabilmente un messaggio sms, un'email con un link, qualcosa da cliccare, e in quella maniera si riesce a installare. A nostra insaputa, sfruttando soprattutto delle tecniche cosiddette di ingegneria sociale, c'è la possibilità di installare questi software all'interno del dispositivo. Sono le nuove frontiere fondamentalmente, anche la criminalità organizzata, ovviamente è diventata molto attenta, è furba, a telefono cercano di parlare sempre molto meno. Invece con queste modalità si riesce a intercettare soprattutto canali come Whatsapp, come Facebook Messenger, le chiamate che avvengono su questi canali riservati, che altrimenti non sarebbe possibile con l'intercettazione classica telefonica averli. L'UFED4PC supporta circa 3.000 modelli e 15.000 tipi di estrazione di dati. Quindi pensate quanti dispositivi è possibile acquisire, quasi tutti quelli che esistono al mondo. Laddove non si riesca a fare un'acquisizione con questo strumento, la Cellbrite ha ben pensato di creare dei servizi extra, che si chiamano CAIS. Quindi per alcune elaborazioni bisogna inviare il dispositivo direttamente nelle loro sedi, o in Israele o nelle sedi europee, nel nostro caso la sede più vicina è a Monaco, e direttamente loro provvederanno ad effettuare l'attività di copia forense e estrapolazione dei dati da alcuni dispositivi particolari. Questo tipo di servizio si rivolge prevalentemente, anzi in maniera esclusiva, perdonatemi, all'Au Enforcement. Quindi soltanto alle forze di polizia, non può essere richiesto dai privati. Vediamo come funziona l'UFED for PC. Andiamo a ricercare una marca di un modello, andiamo a selezionare il tipo di dispositivo che vogliamo acquisire, il tool ci fa vedere che tipi di estrazione possiamo fare, logica, file system o fisica. Ovviamente se possiamo fare la fisica, procederemo direttamente per fare la fisica, perché come dicevamo è l'acquisizione più completa che si può effettuare. Decidiamo dove andare a esportare il nostro file, la nostra immagine o copia forense o bitstream image. parte l'acquisizione, a secondo delle varie tipologie di dispositivi vanno fatte tutta una serie di attività, vanno impostate delle funzionalità all'interno del dispositivo per permettere a questa attrezzatura, a questa apparecchiatura di poter permettere il collegamento. Ovviamente non tutti i dispositivi sono compatibili e alcune potrebbero creare delle problematiche. Vedete, ora è partita l'attività di estrazione, mi dà alcune informazioni, per esempio che devo fare sul dispositivo, e anche in lingua italiana, non solo che inglese. Parte lo stato di avanzamento dell'acquisizione, che potrebbe durare da pochi secondi a minuti e in alcuni casi a delle ore, a seconda della tipologia di dispositivo, un tempo medio ad oggi di un'acquisizione forense può essere di circa tre quarti d'ora a un'ora. Anche se andando avanti con dispositivi sempre più, con delle memorie più grandi, 256 giga, siamo arrivati a 512 giga contenuti, non abbiamo più un telefono, abbiamo la capacità di un computer, quindi questo è molto più grande. Effettuata l'estrazione, ci ritroviamo ad avere questa copia forense. E qui è finita la fase di copia forense. Vediamo i spunti di riflessione, quali sono le caratteristiche e funzionalità di UFED for PC. Vi parlo di quest'altro tool, che si chiama Oxygen Forensics. È un concorrente fondamentalmente di Cellbrite, un concorrente europeo rispetto a Cellbrite, che come vi dicevo proviene dall'Israele. Questo software è dotato di un'interfaccia grafica abbastanza intuitiva, permette di fare un'estrazione di dati da SIM e da dispositivi mobili, più o meno in maniera quasi equivalente a come fa Cellbrite UFED. Personalmente ritengo molto più performante il Cellbrite UFED rispetto a questo Oxygen, che però anche sul mercato ha dei costi un pochino più bassi rispetto ai 10.000 euro di UFED. Qui siamo su 5-6.000 euro circa. Supporta un numero leggermente inferiore di dispositivi, siamo su circa 2.000 modelli di device diverso. Anche in questo caso è possibile fare un'acquisizione tipologico, file system o fisica. permette di importare dei backup e immagini anche da altri software forensi diversi, cioè posso realizzare una copia forense con UFED e dopo andare a estrapolare anche i risultati o indicizzare o a sviluppare i contenuti anche con Oxygen Forensics. Spunti di riflessione su questo tool, quali sono le caratteristiche e funzionalità di Oxygen Forensics. Magnet Axiom, l'abbiamo già sentito quando parlavamo della parte relativa al laboratorio di sistemi hardware relativamente alla computer forensics. Adesso lo vediamo relativamente a quello che è l'aspetto della mobile forensics. Axiom è uno di quei tool che permette di fare entrambi le attività, quindi lo posso usare sia per gli aspetti legati alla computer forensics sia per gli aspetti legati alla mobile forensics. Quindi principalmente è utilizzato per l'analisi di copie, forensi di supporto di memorizzazione di massa, quindi SD, pendrive e hard disk, ma in questo caso permette anche di fare l'analisi di dispositivi mobili, cellulari, droni e quant'altro. Prevede l'estrazione di dati dai supporti mobili, modalità backup, full image a seconda del dispositivo. vediamo un pochino qualcos'altro, vediamo l'acquisizione con Axiom, con questo tool che si chiama Magnet Acquire, anche qui possiamo realizzare la copia forense di un cellulare, vediamo in questo caso magari di un Samsung, di un dispositivo, posso fare un'acquisizione fisica full, posso personalizzare le destinazioni, il nome dell'immagine, l'investigatore che farà l'attività e parte l'acquisizione di un dispositivo. Questo tipo di copia forense è molto simile a quella effettuata poi con il sistema UFED, quindi riuscire a fare un'acquisizione forense anche con uno strumento alternativo mi permette comunque di fare una copia forense che vale valevole a tutti gli effetti, anzi dopo aver fatto questa copia forense posso successivamente recarmi all'interno di un software come c'è il Preit UFED oppure all'interno del tool Oxygen Forensics importare questo tipo di immagine effettuata, questa copia forense e fare un'interpretazione con questi altri software. Questo software è molto comodo perché la parte di acquisizione rispetto agli altri è gratuita, quindi fare un'acquisizione di un dispositivo mobile iPhone o Android prevalentemente è possibile farla anche con questo tool gratuitamente. Chiaramente però se dopo non acquisto il tool a pagamento non riesco a fare quella che è l'indicizzazione dei risultati e quindi estrapolare poi i dati effettivamente dal vivo. Vediamo gli spunti di riflessione, quali sono le caratteristiche funzionalità di Magnet Axion. Vediamo adesso dei tool gratuiti per l'estrapolazione dei dati da dispositivi mobili, quindi estrazione da iTunes, software per sistema operativo Android e per la creazione di backup. Devo dirvi che non c'è un granché, nel senso che non esistono tantissimi software, ce ne sono, ce ne è qualcuno, però chiaramente sono molto più macchinosi, mentre per quanto riguarda tutto il mondo della computer forensics, bene o male si riesce in maniera abbastanza tranquilla ed equilibrata a fare una copia a forense, a fare un'analisi con le classiche distribuzioni forense di cui abbiamo parlato prima, Deft, Cain, applicativi in e-soft e quant'altro, nel mondo della mobile forensics questa situazione non è poi così ben chiara e definita. Si ci può provare, ci sono dei piccoli toolettini, ma purtroppo le performance non sono così elevate. Diciamo che in tanti casi si può usare anche questo classico software di backup come iTunes per i iOS device, quindi parliamo di iPhone, iPad, iPod, chiaramente poi dopo, dopo aver effettuato questo backup, bisogna prendere qualche toolettino che cercherà un pochino di andare a estrapolare i dati contenuti all'interno di questi dispositivi o di questi backup, perché se partiamo da un backup poi dopo potremo esportare quello che era contenuto all'interno del backup. Ci sono dei software sviluppati dalle vecchie case vecchie, perché ormai ce n'è pochissime di quelle nuove, se vedete un po' in giro vi verrà difficile anche da un dispositivo più banale di oggi, un Android, trovare dei tool che siano gratuiti sviluppati direttamente dalla casa per estrapolare dei dati. Bisogna spesso rivolgersi poi dopo a dei tool esterni anche a pagamento in tante volte anche a uso familiare piccoli toolettini che costano magari 50 dollari, 100 dollari, però le case produttrici ultimamente fanno molto più fatica a creare dei software che permettono di poter estrapolare i dati anche per farsi un semplicissimo backup. Vi segnalo questo Santoku che è una Linux distro che permette di fare un pochino di attività relativa a tutto il mondo della mobile forensics con strumenti open source. Ovviamente parliamo di Linux quindi un po' come avveniva già per la parte relativa alla computer forensics bisogna avere un po' di conoscenze di base per poter poi dopo fare questi tipi di attività. Spunti di riflessione esistono alternative gratuite per l'estrazione dei dati rispetto ai software commerciali? Provate magari a fare anche qualche ricerca sul web come recupero dati cancellati acquisizione forense di dispositivi mobili all'interno di con dispositivi di mobile forensics. Facciamo un po' un riepilogo dei spunti di riflessione a conclusione di questa lezione. Le estrazioni dati effettuate sugli smartphone sono le stesse di quelle effettuate sui droni? Anch'essi considerati dispositivi mobili qual è l'estrazione dati più completa che permette di recuperare anche i dati cancellati se non sovrascritti quali sono le caratteristiche e funzionalità di UFOD for PC quali sono le caratteristiche e funzionalità di Oxygen Forensics quali sono le caratteristiche e funzionalità di Magnet for Magnet Axion esistono alternative gratuite per l'estrazione dei dati rispetto ai software commerciali ecco io vi ricordo sempre di visitare il sito internet per poter trovare altre informazioni utili io vi aggiungerò sempre delle informazioni che potrete scaricare slide o altro materiale che man mano potrebbe essere prodotto vi ringrazio finisce la la lezione e vi aspetto presto